Uno degli ecovillaggi che avevo conosciuto era insediato in un vecchio edificio che faceva parte di un complesso costruito negli anni 30 del secolo scorso. Le costruzioni erano immerse in una pineta non molto distante dal mare ed erano originariamente state concepite come colonia estiva per i bambini. Qui una comunità di una decina di persone aveva occupato abusivamente una parte di quelle strutture. Dopo un lungo scambio di mail per verificare chi fossi e perché fossi interessato al loro ecovillaggio avevano accettato di ospitarmi per qualche giorno. Così ci conosciamo avevano detto. All'arrivo ero stato accolto da un signore sulla sessantina il fondatore di quella comunità e dalla sua compagna classico look da figli dei fiori ormai appassiti. Lui con camicione di tela, sandali e capelli lunghi sporchi raccolti in una coda di cavallo. Lei con i denti marci e sigaretta perennemente in bocca. Indossava una tunica multicolore, vistose collane e orecchini fatti con materiali riciclati. Eravamo entrati in un locale biblioteca con una scrivania stracolma di oggetti, molti libri sugli scaffali e pile di quotidiani di partito accattastrate dappertutto. Pavimento sconnesso, vetri sporchi, un sacco di bastoncini profumati tentavano di mitigare l'odore di muffa, fumo e sudore che permeava il locale. Un gong e un sacco di altri oggetti che volevano rimarcare un chiaro orientamento politico e anche una forte tendenza new age. New age, concetto vecchio e molto vago, superato da next age e altre tendenze. Te ne parlo in questo video perché si tratta di argomenti importanti per chiunque stia pensando di avvicinarsi agli ecovillaggi. Ti suggerisco di guardare tutti i video della serie partendo dal primo che contiene alcune premesse essenziali. Nei video di questa serie ti fornisco molte informazioni utili che non trovi nei canali classici sugli ecovillaggi e sulle comunità. Puoi vedere tutti i video di questa serie e altri molto utili anche per cambiare vita e lavoro o per vivere in montagna sul mio canale YouTube Better Call All. La definizione new age è nata negli Stati Uniti nei tardi anni 60 ed indicava movimenti che includevano un po' tutte le forme di controcultura spirituale, movimenti interessati a pratiche particolari come la meditazione, la reincarnazione, la cristalloterapia, la tradizione mistica e religiosa, lo sciamanesimo, il neopaganesimo, la cavala, l'occultismo, ma anche quei movimenti che cercavano di dare spiegazioni plausibili a fenomeni come UFO cerchi nel grano o ad assurdità come quella dei bambini indaco, concetto pseudoscientifico che indica bambini con presunte capacità soprannaturali. Inizialmente il fenomeno new age riguardava una dimensione strettamente individualistica legata alla ricerca del benessere personale. Ben presto però, a partire dal periodo delle comunità hippie che stavano nascendo in quel periodo, tutto finì in un unico calderone. New age era chi rigettava le visioni occidentali o si orientava verso spiritualità alternative orientali, astrologia, spiritismo, reincarnazione ed esoterismo in generale. Ovviamente gli ecovillaggi assorbirono in pieno queste tendenze, spesso senza più abbandonarle come accade in Italia. Nel 2012 però c'è stato uno spartiacque che ha determinato un cambio di nome, non di sostanza. Il 21 dicembre di quell'anno, secondo certe credenze e profezie, si sarebbe dovuto verificare un evento di trasformazione radicale dell'umanità o addirittura alla fine del mondo. Come tutti possono verificare, non accade niente di tutto questo. Quindi per ridare slancio a un movimento che rischiava di perdere seguaci, si adottarono nuovi nomi come next age o cose del genere. Come ho accennato all'inizio, è importante conoscere queste informazioni perché si tratta di concetti ed elementi che trovi praticamente in tutti gli ecovillaggi, sebbene in forme più o meno diverse. Non puoi fare a meno di conoscere anche il cosiddetto channeling. Si tratta di un metodo di comunicazione tra esseri umani ed entità in altre dimensioni, come ad esempio angeli, spiriti del piano astrale e altre supercazzole del genere. Ovviamente tutto condito da vibrazioni positive. Su questo argomento ti suggerisco di guardare il video vibrazioni positive sul mio canale YouTube Better Call Al. Per essere chiari, anche se tutte queste cose ti fanno sorridere, devi mettere in conto che te le ritroverai in forme più o meno accentuate in qualsiasi ecovillaggio tradizionale e non potrai ignorarle perché spesso permeano la vita di tali comunità. Intendiamoci, a me non interessa criticare o prendere in giro. Io rispetto sempre le scelte e gli orientamenti altrui e non cerco mai di far cambiare idea a nessuno. Personalmente ho un orientamento pragmatico, basato su certezze scientifiche e verificabili, quindi tutto quello che rientra nel calderone New Age non mi interessa. Vivo per i fatti miei e posso tranquillamente ignorare le teorie New Age e compagnia bella. Però, come ho potuto constatare, non è possibile ignorare queste cose nella maggior parte degli ecovillaggi perché in queste comunità devi adeguarti alle visioni generali, ai dettami del guru o del capopopolo, sempre molto faziosi. Perché se non lo fai, ti emargineranno quando va bene oppure cercheranno in tutti i modi di rieducarti. Loro preferiscono dire che facilitano la tua transizione verso nuove consapevolezze, abitudini o visioni. La sostanza però non cambia e a me evoca sempre il ruolo del commissario politico di sovietica memoria. Pensi che stia esagerando? No, purtroppo. E ti faccio un esempio semplice a cui magari non avevi pensato. In tutti gli ecovillaggi si coltiva la terra e in quasi tutti gli ecovillaggi si seguono metodi di coltivazione biodinamici che usano tecniche agronomiche basate su teorie esoteriche anziché su metodi scientifici. Ho fatto un video specifico, molto dettagliato, anche su questo argomento. Ti suggerisco di guardarlo. Lo trovi nella playlist diventare agricoltore sul mio canale YouTube Better Call Al. Quindi in tutti gli ecovillaggi si coltiva con metodo biodinamico, cioè stregonesco, che segue le congiunzioni astrali e cose del genere. Un metodo perfettamente new age, seppure teorizzato dal ciarlatano austriaco Rudolf Steiner molto prima degli anni 60. e prova ad andare a vivere in un ecovillaggio e a dire che il metodo biodinamico è una cagata pazzesca e vediamo quanto sopravvivi, in senso metaforico ovviamente. Vuoi un altro esempio? Potremmo parlare dell'omeopatia.